Siamo continuando a lavorare come tutti noi, siamo tutti continuando a lavorare. Ma lei pensa che il sostegno c'è qualche distinto oppure è un sostegno compatto da parte della maggioranza? Sono valutazioni politiche, noi stiamo andando avanti per la nostra strada, su questo percorso di legalità che abbiamo avviato. Adesso diciamo che siamo a buon punto, ora è il momento di dare un po' di efficienza e quello che stiamo facendo. Sulle prossime azioni su Ostia che sono molto importanti, quelle che già avete fatto? Ostia abbiamo attivato un sistema per riuscire a dare immediatamente una pulizia straordinaria del verde, partiremo già settimana prossima, poi stiamo cercando di avviare, sia pure un po' in ritardo, ma capirete la situazione, un po' di manifestazioni sul lungomare. Ma lei stesso ha detto che in 67 concezioni non ce n'è una che sta in regola? Confermo. Quando è che si può fare qualcosa per questo? Faremo qualcosa, il problema è che cercheremo di coniugare legalità e responsabilità. La responsabilità consiste nel fatto di poter consentire ai cittadini di Roma di trascorrere questa stagione balneare in tranquillità. Ovviamente se riusciamo ad avviare un percorso condiviso che ci permetta di arrivare dal 1 ottobre all'abbattimento del muro, è una riqualificazione turistica, una versione turistica, secondo anche le indicazioni che vengono dalla recente legge regionale del litorale, bene, altrimenti vuol dire che procederemo in un altro modo. Grazie.